LG presenta K4 4G, il nuovo smartphone della serie K, un riuscito mix di dimensioni contenute, facilità d'uso, maneggevolezza e funzioni speciali. Scopriamolo insieme. Compatto, elegante e sottile. Connettività 4G LTE. Fotocamera da 5 megapixel. Selfie con un gesto. Processore quad core da 1 GHz. LG K4 4G è caratterizzato da un design estremamente compatto ed elegante, curve armoniose e dettagli curati. È sottilissimo, solo 8,9 mm di spessore. La cover posteriore è lavorata, finitura che migliora ulteriormente la presa. Il display da 4,5 pollici è ideale per l'uso con una mano sola, senza perdersi dettagli di foto e video. Le prestazioni sono affidate al processore quad core da 1 GHz con 1 GB di RAM, vero cuore pulsante di LG K4 4G che permette di passare rapidamente da un'app all'altra, navigare velocemente e sfruttare al meglio le applicazioni. È dotato di due fotocamere, quella posteriore da 5 megapixel e quella frontale da 2 megapixel. Scattare selfie è facilissimo e molto divertente, basta un gesto. Infatti con LG K4 4G, grazie al riconoscimento gestuale, ti basterà aprire e chiudere il pugno per attivare l'autoscatto. E se c'è poca luce? Nessun problema, il flash virtuale illumina il tuo viso per selfie sempre chiari e definiti. Su LG K4 4G è tutto immediato. Per mettere a fuoco e scattare una foto con la fotocamera da 5 megapixel basta un tocco sul display, niente di più facile. K4 4G è ideale per chi si sente sempre social e vi permette di condividere facilmente i vostri scatti e i vostri video. La tastiera si adatta perfettamente alle dita perché offre la possibilità di personalizzarne le dimensioni, ingrandendola o rimpicciolendola a piacimento. Problema risolto anche per le mani più grandi o per le più piccole. Se cercavate uno smartphone veloce, divertente, evoluto e ad alto tasso social, beh, con K4 4G l'avete trovato. Garantisce LG!